Tutto il migliore street food di Torino Primo posto che ho provato pur manger Ma avete consigliato bene? Grazie Perché era veramente buono Ti prendono queste patate, queste jacket potato Te le svuotano, te le riempiono È tutto un lavoro di togli e metti Però poi te le mettono dentro di te e tu sei contento O contenta, comunque sei felice Secondo posto, mollega Qua fanno i focaccioni, i panini Dentro puoi metterci quello che ti pare Il prezzo rimane sempre lo stesso Sono così gonfi, ignoranti, prepotenti Sono i boss finali di un videogioco Però sei felice di scontrarci Terzo posto o crispa E qui abbiamo la tradizione cinese Anche con innovazioni, influenze Però buona Mi raccomando i ravioli ti faccio vedere come mangiarli Perché sono quelli col brodo Quindi piattino, metti il raviolo dentro Lo prendi bello grosso Lo buchi, così esce tutto quanto il brodo Bevi il brodo E poi mangi il raviolo Così sei felice 3-4 volte di fila Se li provi, fammi sapere